un saggio appassionante scritto da uno dei più famosi storici del medioevo contemporanei in cui viene esaminata la figura dell'usuraio agli albori del capitalismo in una perfetta sintesi di immaginazione ed erudizione sulla base di un gran numero di fonti documentarie le goff mostra come si sia gradualmente costruito un compromesso tra le esigenze della religione le spinte innovative dell'economia il banchiere riesce a conciliare i profitti sulla terra e la sua ispirazione ad assicurarsi la vita eterna attraverso la carità ai poveri e le donazioni alla chiesa un modo particolare di risolvere il conflitto più generale tra le dimensioni della spiritualità e delle pratiche religiose e il tempo dei mercanti laico e tecnizzato ispirato alla nuova mentalità e alle nuove concezioni del lavoro e del denaro e dell'organizzazione sociale che si stavano ormai affermando per eludio al mondo moderno